ciao ragazze allora oggi vi voglio parlare di un evento che ci sarà dal 6 all'8 ottobre a milano che l'inter charm non so chi lo conosce di voi ma proprio ho voluto fare questo video per spiegarvi un po nessuno mi paga per dire cose io dico quello che penso ve lo dico perché io andrò e quindi vi posso dare due dritte se siete interessati ad andarci vi do giusto i prezzi le riduzioni vi dico cosa c'è all'interno ma chiudi quello non è che sto a dirvi anche perché non lo so perché non ci sono mai andata è un evento che c'è già da qualche annetto però non è mai stato tanto pubblicizzato perché l'evento top dei top per quanto riguarda nail art cosmetici eccetera e il cosmo prof quindi questo diciamo un po messo da parte io però mi sono un po informata perché appunto prima di ricevere questo non sapevo cosa fosse sono andata sul sito e ho visto il sito e questo qua per chi fosse interessata comunque magari ve lo lascio poi nell'info box e praticamente è simile cosmo prof ovviamente riduzione ma proprio così questo è così il cosmo prof è così quindi però è un evento carino secondo me ci sono tanti stand unghie cosmetici so che si possono acquistare dei prodotti ci sono delle dimostrazioni riguarda anche il parrucco quindi c'è tutta quella zona capelli che però mi sembra per entrare lì serve pagare un qualcosina in più però solo forse per le dimostrazioni se invece fate un giro tra gli stand credo che anche il reparto capelli sia incluso nel prezzo del biglietto io ho questo perché l'ho ricevuto con l'abbonamento trucco e bellezza so che anche con unghie bellezza è uscito però quello del numero luglio agosto non so se uscirà ancora con il nuovo numero che sto aspettando quindi settembre ottobre se mai dovessi riceverli io apro immediatamente un giveaway così posso dare la possibilità a due di voi perché all'interno ne ho trovati due di avere questi che sono codice riduzione quindi voi pagate comunque il biglietto però grazie a questo lo pagate a un prezzo ridotto adesso vi dico per un giorno il biglietto intero costa 35 mentre con questo pagate 13 praticamente il codice riduzione questo avviene praticamente online quindi voi scrivete il codice date i vostri dati mi sembra che chi ha la partita iva inserisce la partita iva chi invece non ce l'ha mette il codice fiscale ed è a posto lo stesso perché comunque è più rivolto a chi è nel settore però anche come noi che vogliamo dare uno sguardo è possibile entrare basta metterci appunto non la partita iva ma il codice fiscale poi invece chi vuole andare tutti e tre i giorni anche se secondo me è un po eccessivo comunque lì sta a voi decidere costa 45 euro l'intero mentre con questo 20 euro quindi questo veramente una manna dal cielo perché almeno vi fa risparmiare un pochettino perché non so voi ma tipo io prenderò poi il treno per andarci quindi già c'è il costo del treno andate ritorno puoi mangiare tutto quanto sono sempre delle spese cosa volevo dirvi niente all'interno appunto come vi dicevo ci sono tutti questi stand ci sono tutti che fanno le dimostrazioni so che per quanto riguarda nail art ci sono tante ragazze che faranno vedere appunto tutti i loro decori e le loro lavorazioni in diretta io ovviamente mi porterò la o la videocamera o comunque la fotocamera e vi registrerò un po' quella quello che vedo quello che mi colpirà io andrò con una mia amica con la mia migliore amica che ringrazio ancora tantissimo e niente sono contenta perché senza di lei penso che non ci sarei andata perché far venire il mio ragazzo non mi sembrava neanche tanto giusto perché a lui diciamo che non è che gli importa più di tanto quel mondo lì però così ho trovato questa mia amica che è stata fantastica perché lei non è molto amante di questo mondo unghie trucco lei è molto molto semplice però mi vuole veramente benissimo e allora ha deciso di accompagnarmi poi ha detto che questa è una scusa per stare una giornata insieme e quindi poi lì mi sono sciolta e l'ho ringraziata tantissimo e niente chi di voi parteciperà e ha voglia di conoscermi di fare due parole di dirmi un ciao finalmente faccia faccia io sarei contentissima e quindi io ho messo questo video un mesetto prima proprio per questo motivo così mi potete contattare e ci possiamo mettere d'accordo cos'altro dirvi? niente mi sembra che vi ho detto tutto sì vi ho detto tutto penso ah magari vi dico gli orari di apertura per chi non li conoscesse ancora da sabato 6 a lunedì 8 dalle 9.30 alle 19 l'ingresso appunto è a pagamento riservato agli operatori professionali però per quello c'è un gate a parte per noi persone comuni entrate tranquillamente dall'ingresso principale poi qua c'è scritto che bisogna andare a Fiera Milano City la linea è quella rossa da Milano Centrale io naturalmente prendendo il treno arriverò a Milano Centrale poi da lì prendo direttamente la linea rossa che porta proprio davanti all'ingresso della Fiera quindi comodissimo e altro cosa vi posso dire niente vi lascio il link appunto della Fiera qua sotto nell'info box vi anticipo che non è che ci sia chissà che cosa in questo sito però giusto così per avere una spolverata se no basta che voi cliccate qua nella ricerca scrivete InterSharm e vi compaiono dei mini video fatti da delle ragazze che magari hanno partecipato agli altri anni o forse c'è anche proprio il canale dedicato a questo evento quindi fatevi un giretto se siete interessate e basta ci sentiamo al prossimo video voi se volete vedermi sapete come contattarmi un bacione e alla prossima ciao ciao